Oggi faccio un professore, e sono il compazio, per averci l'invito e gratis pochino. Allora, qualche giorno fa ho trovato su internet una lista di punti che sintetizza l'assistenza primaria del muro e con me della barra. Ovviamente sono differenti tra loro, e forse un po' superficiali, ma sicuramente potrebbero nascondere una grande verità. Ditemi cosa ne pensate, ma lei, tagliateci le vostre amici o le vostre amiche nei commenti. Partiamo. Ecco come far felice amore. Allora, vediamo i punti, fare sesso, non finirò, dormire con voi, non tenterò andare sul telefono, e non venerò cambiare. Pochi punti abbastanza essenziali. E ora, vediamo invece, come far felice amore. E' un po' difficile, insomma, per far felice amore, l'uomo deve essere... E' un po' difficile.